E ci sono state ancora tensioni questa notte in Val di Susa dove l'ala più oltransista del movimento Notava manifestato a Chiomonte contro l'allargamento del cantiere della Torino-Lione. Intanto oggi pomeriggio sarà formalmente espropriata la baita della Val Clarea, la costruzione simbolo del movimento Notava della Val di Susa che nel 2010 aveva comperato collettivamente quei terreni proprio come presidio contro l'avanzata del cantiere dell'alta velocità.